Preparati! Ancora no, scusa! Attenzione! Non ancora! Ancora no, scusa! Ancora no, scusa! Ancora no, scusa! Attenzione! Ancora no, scusa! 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 Sì, prendi questo, troppo! Al marchigegno. C'è davvero molto da vedere qui. Funciona! Rastillo si muove! Sì, non c'è un po' di più. 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 Ci entra Pennello! Atreus, da me! Ok, arrivo. Ok, aspettaci! Dovrebbe andare. Parte! Ci porterà dritti fino in cima. Lo scopriremo presto. Lassù c'è qualcosa di... strano. Potrebbe essere pericoloso. Lascia perdere le supposizioni. Pensa alle cose concrete. E tieni gli occhi aperti. Sì. Sì. Ora siamo più vicini. Sì. Ehi, questa non è rotta. C'è un messaggio. Una preghiera dei giganti. affinché gli antenati vellino su di loro e li guidino verso casa. Ragazzo. Aspetta! Credo di sapere come funziona. Guarda! Cameth Patty! No! Uov! oo..... Che hai scritto? Ho chiesto di vegliare sulla mamma. Veglieranno anche su di noi durante il viaggio. Andiamo. La strada è lunga. Indietro! 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 trove. I nani avranno scavato questi tunnel per aggirare le tappe. Buon per noi. O meglio, buon per me. Non ci credo. Non sei d'aiuto. Ci vediamo dall'altra parte. Stai pronto! Sì, presi. Un altro montacarichi. Forse la strada sarà più corta del previsto. Sarai solo usando il montacarichi. Un altro montacarichi. Un altro montacarichi. Forse no. Ancora troppo pesante. Si muove di nuovo. Ehi, una volta in cima. Quanto lontano pensi che riuscirò? Fino al lago? Al serpente del mondo? A casa? Lo scopriremo una volta arrivati. Ora, occhi aperti. Atreus! Oh! Atreus! Sto bene. Ho solo perso l'equilibrio per un attimo. Sai, per essere così forte ti preoccupi troppo. Se non lo facessi. Se non lo facessi moriremmo di certo. Sarà, ma non mi sembra divertente vivere così. Devi essere pronto. Alcora! 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 Grazie a tutti. E ora ti sei divertito? Ok, dovrebbe occuparmi di più. Siamo al capolinea? No, siamo bloccati. Quanto dobbiamo proseguire? Non lo so. Ci attaccheranno di nuovo? Sicuramente. Oh no. Già, preparati. Concenca. Padre, usa questa. Padre, occhio. Occhio. Oh no. No, no, no! Progetto! No! No! Droghe Ruscio! No! No! Atento! No! 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 Non dovremmo andare, potrebbero ritornare a momenti. Credo che siamo al sicuro. Così sembra. Padre, dopo che avremo sparso le ceneri della mamma, cosa faremo? Nulla. Torneremo a casa. Tutto qui. Avventura finita. Per ora. Ma abbiamo molto da fare. Sulla barca, dopo aver tagliato l'ultimo albero, avevi avuto l'impressione che qualcosa fosse cambiato. È vero. La nostra casa non è più sicura. Ma lo sarà di nuovo. E poi dobbiamo continuare il tuo addestramento. Bene. Siamo quasi in cima. Niente potrà fermarci. Calma ti, ragazzo. Mi stai indietro. Sì, sì. Davanti, nemici. Siamo. 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 Che stai facendo? Preparati! Tieniti! Che momento! Fermo! Caspita, cos'è stato? Sembra una radice di Yggdrasil. Ma è la sua linfa. Linfa cristallizzata. Contiene del potere. Incredibile!